Il gruppo di studio Covid-19 e demenza della SINEM è costituito da 87 centri italiani e ha voluto misurare l'impatto della pandemia nei pazienti con demenza e nei loro caregiver. Il primo lavoro, un focus sui disturbi comportamentali, è uscito qualche giorno fa, ha fatto il punto esattamente su questi disturbi comportamentali di 5.000 pazienti e chiaramente dei loro caregiver. Il dato è particolarmente allarmante, oltre il 60% dei pazienti sono peggiorati, non solo come peggioramento dei disturbi comportamentali preesistenti, ma anche come comparsa di nuovi disturbi e il 65% dei caregiver ha subito un incremento dello stress importante. Ovviamente questo ci deve spingere oggi a programmare un servizio socioassistenziale per i nostri pazienti completamente diverso, sicuramente molto più vicino al paziente e anche molto più flessibile perché dovrà tenere conto, e questo è fondamentale, dello scenario molto mutevole che noi abbiamo oggi davanti. Quindi l'utilizzo probabilmente di metodiche di telemedicina e quindi di monitoraggio a distanza e quindi ancora di sostegno a distanza per questi nostri pazienti sarà assolutamente fondamentale. In questo le istituzioni devono essere chiaramente fortemente responsabilizzate.